salve sono carlo colombo terrò un corso online su come vendere la propria musica in giro per il mondo standosene comodamente a casa propria in questo corso tratteremo diversi argomenti il diritto d'autore royalties siae licenze di utilizzo esclusive e non esclusive la routine del compositore tecniche di vendita music libraries e altro per vivere di musica non serve essere famosi giovani o belli ma basta avere la voglia e la tecnica per farlo a